4Lenner 2011, seconda edizione del premio innovazione, siamo qui con il signor Cucato, titolare dell'officina meccanica GGF, buongiorno, che ci presenta la macchina che ha presentato questo concorso. Allora, nell'arco degli anni abbiamo riscontrato, l'avvento delle motoseghe può riscontrare problematiche, articolazioni, dolore alle spalle, articolazioni, movimento alle spalle, gomito e vi dicendo, mio padre e io abbiamo trovato un sistema appunto per risolvere il problema dell'accensione della motosegna, che è ovviamente molto difficoltoso per noi riparatori, perché dobbiamo accendere le motoseghe diverse volte durante l'arco della giornata e nell'arco dell'anno. Per cui con questo sistema si evitano i rischi di lussazioni spalle, articolazioni, si alleviano le malattie professionali, si risolve il problema di infortuni sul lavoro, perché è un grossissimo problema anche di infortuni sul lavoro, perché dove c'è un ambiente di lavoro ci sono dei dei quadiuanti o comunque delle persone magari non proprio robuste come me o cosa, e per accendere la motosega crea problema nella sessione. Questo invece fa in maniera che non si ha più quel problema, ma semplicemente con la pressione di due pulsanti è semplicissimo. Ecco il funzionamento di questa macchina. Il funzionamento di questa macchina, scusate le spalle, si inserisce la motosega all'interno di questa macchina, si prende la leva di avviamento, si mette in sicurezza la macchina e tenendo premuto contemporaneamente fino all'avviamento della macchina stessa. Nel momento in cui il motore gira, c'è il sospiratore di gasti scarico con il suo filtro per i gasti scarico, per cui anche in un ambiente chiuso la macchina può lavorare tranquillamente e il motore può funzionare senza creare problematiche e senza inondare di fumo all'interno del locale. Per cui si risolve anche il problema fisicamente dello sforzo fisico. Benissimo, signor Cucato, te la ringrazio e in bocca al lupo per il premio. Arrivederci.